BELLA A TUTTI RAGA QUA FABIO Eccoci ragazzi, è iniziata la partita, qui già si stanno scannando, perfetto, oh, canona, ma, più di puttana, su chiamalo a merda, su chiamalo a merda. Mio qua, bastardo, eh, dall'altra parte. Tanana. Sì, sì. Oddio, come, che riscio? Mamma mia, che stupido. Lì c'è il macello, raga, lì c'è il macello, mi devo muovere, che è quella 60. Vai, vai. Vai, con Razorback. No, fammelo uccidere! Vabbè, no, mi ha ucciso quello lì. Neutralizzato. Dai, 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 dai. Puoi camperare in gioco delle armi. Ma io non lo so. Che gente. Dai, dai, dai. Che culo. No, pezzo di merda! E va il pompa. Adesso di nuovo c'è il pompa, sto bastardo. No, merda, è da vicino, eh. Fammelo uccidere, eh! Cristo! Mi sono superando l'ultimo! Pensavo di trovarmi in difficoltà con un'arma che ho già d'oro. Cos'è sta schifezza? Ah, il Gorgon. Beh, questo lo farò in due secondi, il Dingo. Fortissimo. Uppala! Aia! Meno male che sono arrivato in testa. Meno male che sono arrivato in testa col cecchino, perché... Se no... Eh, ora è tosta col cecchino. Non lo so usare su Black Ops 3. Ma questo è il problema. Eh. Ora perdiamo un bel po' di tempo. Quello ho ancora al Dingo, mi sa. No, al... Al Gorgon. Cioè, manco se lui sta fermo lo becco. Che schifo. Dai, l'avevo preso! Eh, vaffanculo. L'avevo colpito, da raga! L'avevo colpito, però! La prima volta! Ruina a terra. Ruina ammazzata. Dai, dai, dai. Sì, sì! Sì, cazzo, sì! E andiamo! La prima partita l'avevamo portata a casa. Taglie così. Sono passati sei minuti circa, sette minuti. Quindi ne faremo un'altra. E andiamo, cazzo! Subito qua dietro. Subito qua dietro. Ah no, me lo laggiù. No, cazzo! Eh, mi sono ingiappato col primo nemico. Comunque l'elecarra che è fortissima. C'è una mira... Perché non fa? Guarda quello. Opa, là! Lol, non l'avevo molto colpito. Guarda, come se non l'avessi capito. Merda! Desisto, una... No. Opa, là! Dai, dai, dai! Qua è pieno! Guarda che merda di mirino! Eh, da dietro! 120, 80! Buono, buono, buono! Problema, mo' sto mirino del cazzo! Vai! Sì, me la sono tolta subito. Vai, vai, così, vai, così, vai, così, vai, così. Eh, quando tira la... Ho messo sul cazzo quando cambia arma, ho tre ore. Guardalo! Era pure dietro qua, sul lato. Senti, io me ne vado da lì. Non gioco mai. Quando vado lì... Muoio. Me la gioco qua che... Stavo andando abbastanza bene. Dove cazzo sono i nemici? Oppa là! Aia! Pezzo di merda. Grazie! Nooo, merda! Nooo, merda! Ma come non è morto? Ok, allora, aspetto qua. Vaffanculo! Eppala! E mo? Ti faccio uscire da quello dietro. Eh, raga, era difficile ammazzare quello. Andiamo a cercare uno qui. Oppala! Nooo, che c***o era voluto trollarlo! Nooo, potevo vincere! No, raga, se è perdo per sto fail. Porco Dio, dove potevo ammazzare quello? Che nervoso! Avrei già vinto! Per trollarlo e stare fermo. Sono morto. Sì, cozzo! Eh, abbiamo vinto due su due! Questa volta 200 a 160. E andiamo. Ragazzi, il video può terminare qui. Come sempre, vi ricordo che se vi è piaciuto il video di lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. Da FAPKL è tutto. Bella, raga! Ciao!